Cava Ispica è una vallata fluviale che per 13 chilometri incide l'altopiano Ibleo tra le città di Modica e Ispica. La vallata immersa nella tipica vegetazione della macchia mediterranea custodisce necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia che si sono succeduti ininterrottamente dalla preistoria antica età del bronzo fino almeno al 1300. Nell'area terminale della vallata nel territorio di Ispica, a ridosso della città, il sito prende il nome di Parco Forza. L'antico nome latino fu per molti secoli Ispiche Fundus, cioè il sito del territorio di Ispica che si trova nella parte più bassa della cosiddetta Cava. L'etimo Ispica, nell'uso comune, è stato ed è tuttora preceduto dal prefisso Cava, cioè valle, secondo la parlata locale, e si è sempre parlato in dialetto di Cava Rispica, Cava Dispica o Cava Ispica, dal greco Eis per Gas, cioè verso le sorgenti ad indicare il corso del torrente. Il sito costituiva un luogo particolarmente adatto già a una popolazione primitiva, in quanto offriva rilevanti difese naturali e risorse necessarie alla sopravvivenza. Nella parte nord, nel territorio di Modica, la Cava ha pareti rocciose più adatte all'insediamento umano, quindi più numerose sono le tracce di abitazioni, le grotte abitate dal 700 avanti Cristo fino agli inizi del 1900 e le necropoli. Nella parte sud invece prevalgono le postazioni difensive come il Fortilizium nel territorio di Ispica, roccaforte naturale costituita da una massa rocciosa di calcare duro. Cava Ispica è una delle più grandi curiosità archeologiche della Sicilia, per il suo aspetto pittoresco e il grande numero di escavazioni nelle pareti rocciose del suo lungo corso fin nell'altopiano di Modica. La particolare morfologia della cava, a forma di gola, di tipo di roccia, la posizione naturalmente adatta alla difesa, la prossimità del mare, hanno contribuito a rendere questo luogo uno dei maggiori insediamenti rupesti della Sicilia. La denominazione Cava Ispica precede quella della città omonima, la quale si chiamò in effetti Spaccaforno fino al 1936. La città di Ispica, infatti, nella parlata locale è ancora oggi comunemente conosciuta come Spaccafunnu. Questo termine appare in una bolla papale del 1093 e in un'altra del 1168, sotto il pontificato di Papa Alessandro III, nella quale si assegnavano al vescovo di Siracusa le chiese di Spaccaforno. La cava, che in alcuni punti è profonda circa 100 metri e larga più di mezzo chilometro, è solcata da un torrente che ha nome pernamazzone nel corso superiore e del busaitone nel corso inferiore. La presenza dei corsi d'acqua ha fatto sì che nel luogo si sviluppasse una vegetazione rigogliosa, motivo d'attrazione per varie specie di animali, tali da rendere questo luogo un sito di singolare bellezza paesaggistica. Nel tempo in cui era abitata, la cava mostrava anche la presenza di varie colture che dopo il terremoto del 1693 furono abbandonate. Pochi secoli dopo vennero però riprese e la cava ridivenne un vero giardino dove erano coltivati alberi da frutta. La roccia dell'altopiano ibleo è essenzialmente di natura calcarea ed è perciò che i vari corsi d'acqua nel tempo hanno scavato valli più o meno profonde, alcune anche con pareti ripide che sono chiamate cave, formando un'intricata rete attraverso la quale scorre a mare l'acqua torrenziale.